Un cordiale buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni. Partiamo con la 1 dove si registra un chilometro di coda tra Valdichiano e Chiusichianciano a causa di un veicolo in avaria in direzione Roma. Code attratti invece a causa del traffico intenso tra Valdichiano e Firenze Sud e tra Firenze in pruneta e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Code attratti anche in A12 tra l'allacciamento con la 11 e Santo Stefano di Magra in direzione Genova. Uno sguardo alla statale 1 Aurelia, traffico intenso e quindi rallentamenti tra Donoratico e l'incrocio con la 12 in entrambe le direzioni. Uno sguardo a Firenze News sulla tramvia, il servizio infatti è momentaneamente interrotto tra Arcipressi e Porta al Prato Leopolda per un incidente che ha provocato il deragliamento del tram. Attivo il servizio di bus sostitutivi. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!